Musica Condannata ad otto anni di reclusione per morte in conseguenza di un altro reato e per spaccio una vera e propria stangata per il magrebino accusato di aver ceduto sostanza stupefacente a Sarra di Ciannovene ritrovata senza vita nel marzo 2017 all'interno di una villetta di Cesa. Sei anni per lo spaccio e due invece per il 586 e quindi per la morte come conseguenza di un altro reato. Poi ci sono stati 18.000 euro la multa collegata ovviamente con la pena e il maxi risarcimento a titolo comunque di provvisionale. Quindi se poi le parti civili saranno intenzionate di fare la causa civile lo vedremo, però non sono i soldi la parte interessante insomma per i genitori. La sentenza è stata pronunciata ieri dal GIP del Tribunale di Arezzo Fabio Lombardo presenti in aula anche i familiari della ragazza che sono scoppiati a piangere alla lettura della sentenza. L'imputato anche lui presente in aula dopo la lettura del dispositivo è tornato in carcere. All'inizio ho fatto un po' fatica a fargli comprendere la pena che da un punto di vista processuale è alta ovviamente ma da un punto di vista dei genitori ovviamente no. Dopo che ci ho parlato e ho spiegato loro il nostro processo, le nostre pene, hanno detto che giustizia è fatta e ovviamente comunque hanno pianto. La ragazza di origini marocchine, da tempo residente a Sansepolcro, stava cercando di uscire dal tunnel della droga Moripero Verdoso. L'11 settembre 2017 si trovava all'interno di una villetta di cesa assieme al fidanzato, ad oggi mai rintracciato e al magrebino condannato, stando a quanto ricostruito dagli inquirenti furono proprio i due ragazzi a portare cocaina ed eroina, a stroncare la giovane un mix fatal di sostanze stupefacenti assieme all'alcol.